La nuova stagione di Uomini e Donne è ormai alle porte, e l'attesa per scoprire chi saranno i nuovi protagonisti è altissima. I fan non vedono l'ora di sapere chi sederà sul trono classico, soprattutto dopo l'uscita di scena di alcuni volti noti dello scorso anno. Tra le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni, una in particolare ha catturato l'attenzione, quella di Mirko Brunetti, ex partecipante di Temptation Island e del Grande Fratello, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere uno dei nuovi tronisti. Cosa c'è di vero in tutto questo? Prima di svelare i dettagli, non dimenticate di iscrivervi al canale e mettere un like al video per non perdere nessuna delle nostre novità. Le voci su Mirko hanno iniziato a circolare subito dopo la sua recente separazione da Perla Vatiero, con cui aveva condiviso momenti intensi sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello. Molti pensavano che la loro storia d'amore potesse proseguire anche dopo le telecamere, ma la realtà è stata ben diversa. La loro rottura, avvenuta all'inizio di agosto, ha lasciato tutti di stucco, alimentando una serie di speculazioni sui motivi dietro questa decisione. La fine della loro relazione ha fatto pensare che Mirko potesse essere pronto a voltare pagina partecipando a Uomini e Donne come tronista. Ma c'è di più, si dice che Maria De Filippi, durante i casting per la nuova stagione, sia rimasta particolarmente sorpresa di vedere proprio lui tra i candidati. Alcune fonti vicine alla produzione hanno raccontato che la conduttrice non si aspettasse di ritrovarsi Brunetti davanti agli occhi e che la sua reazione non sia stata delle più entusiastiche. Infatti, sembra che il provino di Mirko non abbia convinto del tutto Maria, lasciando intendere che la sua presenza sul trono non sia affatto certa. Nonostante questo, l'idea di vedere Brunetti in un ruolo così centrale nel programma ha già scatenato dibattiti tra i fan. Cosa ne pensate? Mirko potrebbe davvero essere il nuovo tronista? O il suo provino è destinato a rimanere solo un tentativo? Fateci sapere nei commenti le vostre opinioni e ricordatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati su tutte le novità di Uomini e Donne.